Paura, ho molta paura. C'hai paura, Ciri? Oddio. Guarda come ti sta. Ci sai zio? Si, si, ci sono, ti sto prendendo di non farti beccare. Sai che cosa vuole fare? Basta, 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 non importuniamolo. Ha degli scatti con la testa allucinanti. Perchè, se lo faccio, è una volta. La bestia del palazzo di farina, che scadono. Sì, altrimenti sono le pate. Quindi, ci sono le pate di, Perchè, anche un'unica, sia l'unica. E' l'unica. Grazie a tutti